Ecco, siccome le notizie girano anche delle cose semplici tante volte, è arrivata notizia che il nostro Don Riccardo, che è qui con noi oggi a colloquiare nella nostra rubrica Mane Nobiscum, è andato a partecipare a Clusone, che è il suo paese, la sua città, meglio diciamo di origine, al Triduo dei Morti. Ecco, in questo ingresso ormai quasi della Quaresima e poi dentro il percorso quaresimale in tante parrocchie si coltiva e si tiene questa tradizione appunto del Triduo dei Morti. Mi piacerebbe un pochettino capire, ecco, il tuo tornare al tuo paese, eccetera, in momenti come questi, eccetera, che cosa porta nel tuo ricordo, il perché anche, il desiderio di ritrovare queste occasioni e soprattutto ecco, in una città come Clusone, che cosa comporta nel percorso pastorale dell'anno il celebrare un Triduo dei Morti? Beh, sulle domande relative a Clusone dovresti intervistare l'arciprete di Clusone e i preti di Clusone, io sono solo nativo e quindi quando l'ultimo giorno del Triduo si fa la celebrazione mattutina, a suffragio di tutti i morti, dove si invitano i preti nativi, i preti che hanno operato servizio, quelli della zona, eccetera, se posso ci vado volentieri, perché credo sia comunque un'occasione bella per una celebrazione condivisa con tanti altri preti, ma anche una celebrazione a suffragio dei morti del mio paese, quindi penso un po' anche a quelli della mia famiglia, penso alle persone che ho incontrato al mio paese, la mia città, ma da sempre un paese, per l'amore di Dio, che sono state importanti per me, per sentirle comunque sempre anche in profonda comunione, in quella comunione di fede e quindi voglio dire, non è solo un tenere viva degli appuntamenti della tradizione, ma credo sia anche sentirsi parte di una comunità che è molto più grande di quella che possiamo sperimentare. Però è che questi Tridui dei morti hanno anche tutta una loro esteriorità solenne, per cui credo che Clusone, come pensiamo anche qui ancora negli nostri dintorni, la Val Gandino e così via, ma è una tradizione che c'è anche in terra bresciana, in terra brianzola eccetera, oltre che in Bergamasca, queste caratteristiche anche esteriori che un pochettino sanno di lugubre per certi aspetti, il catafalco che viene messo in mezzo alla chiesa, queste raffrigurazioni anche da morto eccetera, peraltro invece gioca un pochettino il fatto della luce, perché ci sono tantissime luci, si accendono e ceri in gran quantità e così via. Anche questa scenografia direi può avere un suo significato e ha i suoi richiami oppure semplicemente qualcosa che riceviamo dall'antichità e che non ci va di lasciar perdere, quindi li teniamo per misericordia. Ma io credo che al giorno d'oggi non si tenga più niente per misericordia, le tradizioni anche con i loro aspetti esteriori, se vogliamo, che hanno attraversato anche il momento più pesante, pensiamo subito all'immediato post concilio dove c'è stata un po' la volontà anche magari di far sparire un po' tutte queste cose che puzzavano un po' di vecchio, laddove hanno resistito vuol dire che non ci si è attaccati solo all'esteriorità, ma si è visto che comunque qualche cosa che ha camminato in maniera seria nella storia aveva qualcosa di dire anche al presente. Tu hai fatto riferimento a quelle scenografie, poi non so neanche se sia giusto chiamare scenografie, comunque quegli apparati che tradizionalmente accompagnano queste celebrazioni. Ecco nascono nel periodo, se vogliamo, della controriforma, magari anche un centinaio d'anni dopo, quindi in un momento in cui qualcuno tra i cristiani metteva in dubbio anche la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia e voglio dire nella Bergamasca, ma nella zona lombarda, se pensiamo già anche a San Carlo e siamo quindi nel post concilio, San Carlo cercava anche nella sua Milano di evitare tutte quelle tradizioni popolari che sapevano un po' anche di Volgarotto, che accompagnavano il carnevale. Non si limitava a dire basta bisogna abolire tutte le cose carnevalesche, ma cercava di sostituire quelle celebrazioni che pure avevano un grande concorso di popolo, che non erano celebrazioni liturgiche per carità, con devozioni, qualche cosa che fosse anche bello. Ecco a me piace pensare che il trido dei morti, con i loro apparati, cercavano di dire anche attraverso il linguaggio del bello, dello stupore, della meraviglia, qualche cosa che parlasse al cuore e che interrogasse poi la fede e il cammino di ciascuno. Quindi non pensiamo a queste cose qui come solo esteriorità, ma era il cercare di rendere la chiesa ancora più bella, ancora più stupefacente nelle sue scenografie perché lì si esprimesse anche attraverso il segno sensibile la ricchezza di una fede che diventava appunto una fede nell'aldilà, una fede nell'eternità, una fede nel paradiso. Beh in effetti ecco il fatto che questi tridui per esempio sono messi un pochettino in consonanza o in dissonanza con il carnevale, chissà una volta si pensava quali peccati magari si potevano fare, poveretti, nel tempo del carnevale, oppure nel tempo della quaresima, a parte il mio paese Schilpario che saggiamente ha posto il triduo dei morti addirittura nel periodo pasquale direi. Ecco questi tridui che si differenziano dagli ottavari dei morti che si tengono in occasione del 2 di novembre eccetera, posti proprio in questi tempi dell'anno direi che assumono delle caratteristiche del tutto particolari. Ricordo qualche anno fa ancora nell'Episcopato Amadei che aveva suggerito di spostare tutti i tridui dei morti nel periodo di novembre. Forse magari impoverendo un pochino questa occasione, un po' perché se vogliamo Don Leone il tema della morte, del giudizio, dell'inferno del paradiso è un po' sparito dalla nostra predicazione. Quindi avere anche magari degli appuntamenti lungo l'anno che servono un po' a tenere viva nel cuore, nella mente dei fedeli, nella loro intelligenza anche queste verità di fede che non sono poi secondarie perché alla fine fede cristiana è fede nell'eternità, sapere che la nostra vita qui è destinata alle fioriere in paradiso non è un dettaglio da riservare così a quelli che hanno il palato più fine ma è qualche cosa su cui si costruisce anche l'essenza stessa del cristianesimo. Credo che storicamente andando a vedere un po' come erano celebrati anche i tridui dei morti nel periodo di carnevale o magari all'inizio della quaresima c'era comunque una connotazione che era più festiva rispetto alla dimensione penitenziale che magari accompagnava l'ottavario dei morti di novembre. Quindi diventava un po' quasi un momento di incontro, diciamolo così, in un momento anche di festa tra la comunità dei vivi e quella dei morti. Ecco noi vi suffraghiamo non solo perché il carnevale si prega per non fare peccati, noi facciamo festa, facciamo festa in maniera bella, non in maniera sbraccata, non in maniera volgare, facciamo festa anche con i segni della festa, mangiando magari un pochino meglio, condividendo qualche cosa, suffraghiamo i nostri morti sapendo che la preghiera di suffraggio è qualche cosa che fa bene al loro sentiero di eternità e quindi diventa un momento in cui la comunità dei vivi e quella dei morti si riuniva dove? Nel contemplare l'eucarestia. Noi attraverso il segno dell'eucarestia, loro guardando il Signore faccia a faccia, quindi diventava un po' un forte momento di comunione con quelli che sono già nell'eternità. In effetti in questi apparati diremmo il fatto centrale è la raggera, questa raggera dove in alto tra l'altro viene deposta nel tempo della preghiera, dell'adorazione, l'eucarestia. Ecco direi che questa centralità significata appunto anche nella raggera è fondamentale per una celebrazione diremmo cristiana della memoria dei defunti. Ma certo, io penso, mi piace pensare, le raggere chiaramente laddove le hanno conservate ogni parrocchia in base alle sue possibilità economiche anche del tempo, le commissionava così alle varie botteghe, quelle magari più artigianali, quelle anche un pochino più rinomate e ce ne sono davvero di pregevoli, dalle forme magari più esili, penso a quella di Clusone, quella di Gandino, quelli magari più barocche, massicce, quindi rovetta, quindi anche bossico, quelle magari anche che hanno così uno stile più neoclassico, no? Ce ne sono quelle di San Pellegrino, in Val Brembana ce ne sono diverse, quella di Olera che risente un po' anche del neogotico. Comunque tutte queste, così queste architetture che non erano posticce servono a mettere in evidenza come il Signore nell'eucarestia è un po' centro di tutto e quindi certo che veniva adorata magari con il canto del miserere dove tu chiedevi perdono anche per quei fratelli che magari fossero ancora in cammino nel loro sentino di eternità per arrivare alla pienezza della luce ma appunto diventava il momento in cui tutti si diceva stiamo contemplando il Signore, noi nel sacramento chi lo sta vedendo faccia a faccia, chi lo sta vedendo un po' in un cammino, vedilo un pochino la dimensione del purgatorio per arrivare nella pienezza, comunque ecco un momento davvero di profonda unità nel guardare il Signore. Penso tra le varie raggere quella senz'altro della nostra zona più significativa è quella di Bossico che ha tutto un marchigegno particolare dove l'eucarestia viene deposta su un basamento a livello dell'altare, della mensa, del tabernacolo insomma e poi pian piano questa raggiera viene innalzata durante la preghiera fino ad arrivare al centro della raggiera e vuole quasi rappresentare il passaggio di Cristo dal calvario, dall'altare dove Cristo si sacrifica in maniera incruenta fino alla gloria dell'eternità, quindi diventa proprio un po' quasi quel cammino che appunto dalla fatica della croce anche nostra ti spinge comunque alla gloria dell'eternità per sapere che la nostra vita è comunque destinata a rifiorire nell'eternità di Cristo. Tra l'altro messo forse tra parentesi perché non è certo il fatto determinante però siccome per fare il triduo servono appunto anche in questo apparato e poi dopo musica, corali eccetera da invitare e così anche economicamente era una certa spesa. Ecco allora che in certe parrocchie per esempio quasi momento anche così di comunità anche questo e di partecipazione l'incanto anche di alcuni beni che venivano offerti dalla gente e appunto poi venivano proposti perché ciascuno potesse offrire il meglio e chi offriva di più si portava a casa salumi, si portava a casa vini, si portava a casa formaggi eccetera. Una cosa anche simpatica direi dentro questo contesto così anche molto serio. Ma certo un po' questa dimensione no? Ovviamente il nostro modo attuale di vivere è molto legato al denaro anche fisicamente. In tempi invece dove forse il denaro aveva una circolazione magari non così importante e significativa come oggi e dove magari a livello popolare c'era ancora un pochino anche il baratto io ti do questo tu mi dai quell'altro. C'era anche un po' questo offrire però pensa Don Leone che bello no? Uno offriva il frutto della sua fatica. Non so il vino, il formaggio, magari anche il fieno no? Pensa in quante parrocchie c'era magari il primo fieno che lo portavi alla chiesa che veniva messo nel fienile della casa parrocchiale e poi magari nel tempo del trito dei morti quando c'era bisogno magari un pochino anche di fieno perché le scorte dell'estate erano finite si incantava il fieno della chiesa e appunto il ricavato poi serviva per le spese della comunità ma anche magari per così per sovvenzionare queste occasioni straordinarie che andavano comunque a dire anche che la comunità non era fatta solo da quelli che erano camminavano ancora con le loro gambe qui ma c'erano comunque anche tutti quelli che erano già nell'eternità ma che facevano parte ancora pienamente di quella comunità parrocchiale quindi diventava proprio un po' un segno dove la fatica offerta diventava comunque un segno di solidarietà anche verso quelli che sono già partiti. Certo che poi Riccardo c'è il fatto che la celebrazione del trito dei morti per i cristiani si aggancia inevitabilmente a fatto determinante della resurrezione del Signore Gesù perché poi il fatto fondante è proprio questo credere nella della resurrezione della vita eterna. Ecco a questo proposito come si usa dire la civiltà di un popolo si dice dipende anche un po' da come viene conservata la memoria di coloro che sono passati all'eternità che è un fatto che riguarda un po' tutte le genti da sempre cioè ci sono stati presso tutti i popoli dei segni anche visibili appunto di questo ricordo anche se poi il pensiero di tante culture antiche eccetera a riguardo dei morti mi pare era un pochettino vago così il regno dei morti l'Ade come veniva chiamato in Grecia eccetera questi luoghi strani dove i morti quasi quasi in mezzo alle ombre appunto le ombre quasi una nebbia eccetera però pur dentro queste modalità è così non chiare c'era comunque richiamo al fatto che non si poteva pensare che la vita finisse col pellegrinaggio terreno che si chiudeva. Ma tu che sei sempre molto sottile nel trovare anche i titoli di questa nostra così rubrica è chiamata assolutamente Ade o Paradiso per dire che cosa ci aspetta poi dopo la morte io credo che da sempre quando l'uomo ha cominciato a ragionare si è reso conto che il suo desiderio di eternità di pienezza e non poteva essere così soddisfatto da una vita anche ricca e piena qui su questa terra perché c'è sempre qualche cosa che ti sfugge quindi il desiderio e il comprendere che insomma la morte non poteva essere compresa come la fine di tutto ha fatto ipotizzare e sperare appunto che si continuasse anche dall'eternità. Tu hai citato l'Ade dei greci ma pensiamo anche nella civiltà romana che sente comunque anche della cultura greta anche noi i campi elisi dove le anime o comunque l'interiorità quello che non moriva con la morte fisica di ciascuno andava a continuare un po' una certa forma di vita anche se magari giustamente dicevi tu anche in una dimensione magari meno felice di quella che è quella della terra ma se pensiamo anche nel cammino degli ebrei gli ebrei da subito da Abramo avevano fede nel fatto che la morte non era la fine di tutto però c'era un po' questa idea anche nel mondo ebraico antico che le anime andavano nello Sheol che era un po' una forma di sopravvivenza però un po' sbiadita un po' nebbiosa appunto quasi dove le cose belle della vita erano mai un lontano ricordo anche se continuavi un po' una certa forma di vita poi anche qui durante il cammino della fede ebraica le cose sono un po' evolute ma chiaramente i cristiani con la risurrezione di Cristo capiscono che quello è il cuore di tutto insomma Gesù che dice ecco io vado a prepararvi un posto dove vado io vi aspetto tutti cercate di vivere il Vangelo vivete la buona novella siate già qui su quella sulla terra costruttori di qualche cosa che cerca di assomigliare un po' al paradiso anche se la pienezza sarà quella quindi non più l'idea di una sopravvivenza in una maniera ombrosa oppure magari penso a certe religioni soprattutto del mondo orientale dove appunto la vita di ciascuno si scioglie nella pienezza di Dio ma quasi perdendo la sua identità invece noi diciamo che rimaniamo pienamente con la nostra originalità con la nostra persona trasfigurati nella gloria dell'eternità. Certo in questo senso qui forse anche noi dobbiamo un pochettino misurare o capire intelligentemente alcune espressioni perché quando noi anche nella preghiera per i defunti diciamo l'eterno riposo sembra quasi un pensionamento dove uno dopo un po' di tempo va a chiedersi ma cosa faremo appunto per tutta l'eternità come un pensionato che non avendo tanti hobby rischia di restare lì seduto in poltrona a leggersi il giornale e poi si stanca anche un po' cioè questo senso un po' di sguardo all'eternità come luogo dove questo riposo dove invece la parola che professiamo nel credo è che Gesù dice la vita eterna è chiaro che se ha da essere vita per noi così come siamo fatti così come abbiamo vissuto la vita nel pellegrinaggio terreno anche di relazione di impegno eccetera eccetera probabilmente quella vita eterna deve sapere di vita di qualcosa di di interessante di qualcosa di costruttivo ancora per cui è bello forse pensare un po' ecco a questa eternità questo paradiso come il luogo dove la nostra vita di adesso è purificata trasfigurata eccetera però ancora tutti quei bei connotati di quella vita che ci piace vivere insomma ma certo guarda don leone noi tante volte quando diciamo eternità immediatamente pensiamo a un tempo che non finisce mai quindi se il tempo terreno non finisce mai anche se fai la cosa più bella del mondo potresti dire che stufada dopo un po' mi sono anche rotto vorrei fare magari qualcos'altro vorrei un pochino cambiare quindi magari pensiamo che appunto l'eternità possa essere qualche cosa che una noia mortale pensiamo invece che questo riposo e potremmo dire che è la pienezza della creatività ecco sarà un regno detto ancora con la povertà dei nostri concetti delle nostre idee però dove la creatività l'originalità non in senso bergamasco ma in senso italiano quindi la parte più preziosa di ciascuno potrà esprimere la sua pienezza quindi potremmo dire è quelle dimensioni della vita che ci piacciono tanto in cui sentiamo che siamo particolarmente realizzati che arriveranno alla pienezza quindi non sicuramente così una vacanza che non finisce più che alla fine ti stufa e ti annoia e rimpiangi magari la tua vita normale ma potremmo dire un tempo un tempo una situazione dove il tempo non sarà più tiranno dove appunto sarà tutto qualche cosa di bello da condividere quindi potremmo dire che le cose più belle qui su questa terra sono dei piccoli assaggi che ci dicono quanto sarà bella l'eternità è chiaro che tutto questo funziona se funziona come è la professione di fede quello che noi diciamo Gesù Cristo è risorto dai morti ha vinto la morte e non soltanto lui o per se stesso ma come primogenito appunto di un'umanità che si è agganciata e sta agganciata a lui e chiamata a partecipare di questa stessa sorte direi che questo perno fondante deve restare solido altrimenti tutti i nostri tridui tutte le nostre preghiere eccetera rischiano di essere venati un po di nostalgia ma rischiano di perdere il senso di una realtà che invece la fede mette in evidenza. Sì penso Don Leone anche a un... guarda quante volte magari quando c'è l'anniversario di qualcuno che nei vari messaggi che magari uno mette anche sui social perché oggi comunichiamo tanto anche su quello magari metti la foto del tuo papà del tuo nonno e la frase che va di moda no ovunque sarai ovunque sarai dove vuoi che sia noi se abbiamo un po di fede non ovunque sarai e torniamo ancora all'ade allo sceol a questo regno delle ombre ma so bene dove sei sei incamminato verso l'eternità ti affido quindi nella mia preghiera offrendo il bene che posso fare alle mani del padre perché la tua vita possa risplendere in Dio in pienezza quindi almeno su questo noi cristiani cerchiamo di tornare ad essere un pochino anche granitici nel dire ecco ci credo gioco la mia vita su questa cosa qui ma cerco anche di tenerlo viva non non torniamo a essere ancora pagani perché altrimenti perderemmo davvero le cose più preziose delle realità che il Signore Gesù ci ha consegnato. Sta scritto nella Bibbia Dio amante della vita amante della vita per noi mentre viviamo nel tempo amante della vita perché porterà a compimento questa storia al di là del passaggio pur doloroso della morte ma in una certezza di compimento e non di fine. In questo spirito preghiamo per i nostri fratelli e sorelle defunti nell'eternità e che loro intercedano per noi perché abbiamo una fede solida soprattutto in questo cammino anche quaresimale che ci porta appunto alla Pasqua di Gesù che è il cuore di quello che crediamo e che ci dà certezza di vita. Grazie Don Riccardo della tua testimonianza sempre interessante sempre puntuale grazie a voi che ci avete seguito l'augurio come sempre di una buona domenica.